Sabato 1 giugno Santa Maria di Sala sarà teatro dell'evento sportivo solidale Green for Fun nella suggestiva cornice di Villa Farsetti. Giunto alla sua decima edizione, anche quest'anno i partecipanti potranno sfidarsi in due differenti discipline giocate su erba, tra calcio a 5 maschile e green volley 4x4 misto. Green for Fun nasce nel 2013 grazie al contributo di un giovane gruppo di società sportive salesi e dell'amministrazione comunale. Un evento sportivo che mette da parte la competitività per mostrarsi sotto ad una luce di solidarietà. Parte integrante dell'organizzazione infatti è l'ABS, una onlus che si occupa principalmente di aiutare i disoccupati del territorio, a cui tutti gli anni viene devoluto parte del ricavato, e di Avis di Mirano che ogni anno partecipa come sponsor, promuovendo e sensibilizzando i presenti sul tema della donazione. Nel corso degli anni la manifestazione è diventata un punto fisso per tutti gli sportivi, diventando uno degli eventi multisport più seguiti in Veneto. L'evento è seguito principalmente da giovani tra i 18 ed i 40 anni di ambo i sessi, professionisti e semplici amatori di ogni livello. L'evento è seguito principalmente da giovani di ambo i sessi, professionisti e semplici amatori di ambo i sessi, professionisti e semplici amatori di ambo i sessi, professionisti e semplici amatori di ambo i sessi.